Vi presento una mia vecchia e cara amica, la signora Tremend. Piacere. Margaret, la signorina... Blake, la nuova segretaria del signor Smith. Piacere. L'ha bloccata qui la pioggia ieri sera. La signora le sta stirando il vestito. Allora, Smith... Veni andata? Sì, credo che mi consiglierò con qualcun altro. Arrivederci, signorina. Arrivederci.